Un saluto ai nostri tifosi e ben ritrovati per la nuova edizione di Essate Neroverde. Venerdì è infatti iniziata la stagione del Sassuolo Calcio con il raduno all'Hotel Due Pini. Sono stati giorni intensi per i Neroverdi fra presentazioni, primi allenamenti e TasmaPay. Sono felicissimo perché la scelta che ha fatto il Sassuolo combacia con la mia, nel senso che abbiamo ambizioni uguali. Ciao tifosi Neroverdi, io sono pronto, spero anche voi. Forza Sassuolo! Ciao! Ciao! Ieri la squadra è arrivata nel ritiro alto a Tesino, anche quest'anno i Neroverdi risiederanno presso l'hotel Almina a Racines. Oggi pomeriggio invece hanno preso il primo contatto con il campo presso il centro sportivo di Vipiteno. Clima fresco e soleggiato e ovviamente i Neroverdi hanno già iniziato a correre. Musica 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 Per oggi è tutto, mi raccomando continuate a seguirci su tutti i nostri canali social e in particolare su Snapchat. Chiudiamo facendovi vedere cosa vi siete persi nelle ultime 24 ore. Grazie a tutti. Buongiorno David Piteno, oggi iniziamo la giornata così. Jamma! Buongiorno! 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 Buongiorno!